Ciao io sono Luca di approccialla.it e in questo video parleremo del fatto che essere brutto è una scelta Per iniziare ricordo per chiunque mi seguisse a poco sono il punto di riferimento in Italia dal 2018 per chiunque volesse imparare realmente tramite dei corsi come conoscere nuove ragazze di giorno e portare la conoscenza fino in fondo, fino all'andarci a letto e anche oltre anziché soltanto al numerino di telefono o poco più come insegnano tutti quanti gli altri presunti esperti in Italia nel panorama seduzione quindi parliamo di questo argomento, ovvero del fatto che essere brutto è una scelta quindi questo video è per appunto le persone che si ritengono brutti quindi chiaramente questo è un video tema seduzione, dinamiche fra uomo e donna, miglioramento sentimentale quindi c'è la credenza che io chiaramente nonostante ho già fatto decine e decine di video se non anche ormai centinaia di video soltanto sull'argomento del fatto che la bellezza non è il fattore determinante per aver successo con una ragazza tu puoi anche essere bellissimo ma se poi non ci sai fare con una ragazza non farei assolutamente niente, non intendo stare qua a ripetere questo discorso perché l'ho già trattato in tantissimi video, ho svilasciato benissimo chi magari non ha mai visto questi altri video dove tratto questo argomento se li vado a cercare sul mio canale YouTube se non hai voglia di andare a cercare questi video questo già denota il fatto che nel 90% dei casi non avrai mai risultati con le donne perché aver risultati con le donne sarà più difficile rispetto a cercare un mio video sul canale YouTube la questione bellezza e aspetto fisico è semplicemente un punto che ti può aiutare a vincere in una partita da 50 punti, 100 punti eh ma devi farli quei 50-100 punti ok, un punto in più, un punto in meno in realtà non è quello che fa la differenza ok, quindi non è questo il discorso comunque, essere brutto è una scelta questa è una cosa che avevo visto in un videocorso l'anno scorso, nel 2020 sempre sul tema seduzione, miglioramento sentimentale perché sì, anch'io continuo a formarmi se non ci si forma la battuta del fatto che chi non si forma si ferma però in realtà è una cosa che tanti dicono semplicemente per avere una frase bella da dire ma poi in realtà tutte le persone che sento dire questa frase chi non si forma si ferma semplicemente si formano ma poi non applicano quindi in realtà lasciamo stare questo discorso però bisogna assolutamente formarsi perché lo sto dicendo in tanti video ultimamente la formula matematica per il successo in qualsiasi cosa è formarsi, applicare, correggersi e non mollare questa è la formula matematica per qualsiasi cosa adesso non stiamo qua a vederla bene in questo video magari poi la vedremo in video futuri però il punto base è formarsi altrimenti ci si fa a schiantare che è il motivo per cui gli uomini non hanno risultati con le donne a parte che poi non applicano poi magari mollano troppo presto ma il punto alla base è che non si formano e quindi poi non sanno quello che stanno facendo non sanno dove stanno sbagliando questi sono altri discorsi però in questo videocorso l'ho preso l'anno scorso sul tema appunto modelle appunto era un videocorso ovviamente nel panorama inglese ovviamente non nel mercato italiano ma questi lasciano stare comunque era un videocorso di un formatore che praticamente lui era stato il proprietario di un'agenzia di modelle forse anche più di un'agenzia di modelle in passato e quindi aveva visto molto bene il retroscena nel mondo delle modelle e raccontava appunto che non esistono ragazze belle o brutte e io appunto ho traslato questo concetto sul fatto anche che non esistono uomini belli o brutti adesso ci arriviamo lui diceva appunto che non esistono ragazze belle o brutte qualsiasi ragazza un minimo in forma chiaramente deve essere almeno magra perché chiaramente se è una ragazza in sovrappeso prima deve magari perdere peso per fare la modella ma una ragazza che è un minimo in forma un minimo magra e che con i giusti prodotti per la pelle per il viso con il giusto abbigliamento con il giusto trucco e diventa una modella poi chi magari ha avuto esperienze con ragazze magari molto belle andarci a letto quando ti svegli al mattino con quella ragazza che la sera prima era super bellissima in tiro, in tacchi con il profumo e al mattino è leggermente diversa mi ricordo una volta che avevo fatto mi sembra nel 2018 o 19 mi sembra che avevo fatto un appuntamento a casa di una modella a Milano e praticamente siccome era direttamente a casa sua non era vestita diciamo come quando era fuori casa era in pigiama perché era sera-tardina tipo luna di notte ed era in pigiama e non truccata ed era leggermente diversa ok? quindi non esistono ragazze belle o brutte esistono ragazze pigre e ragazze non pigre quindi qualsiasi ragazza con il giusto trucco con il giusto abbigliamento con la giusta cura del corpo e diventa una strafiga assurda esattamente come anche l'uomo quindi non esistono uomini belli o brutti esistono uomini pigri e uomini non pigri io stesso adesso vado a dare una serie di suggerimenti tutte cose che ho fatto io in primis la segnata me le sono segnate qui poi adesso andiamo a braccio poi magari guardo un attimo così andiamo in ordine però io fino a quando avevo 14-15 anni io ero in sovrappeso quindi si può perdere peso non è genetica ok? ora se hai un po' di pancetta non c'è nessun tipo di problema se sei molto in sovrappeso sì quello è un problema ok? quindi perdi peso ma non si tratta di fare una plastica facciale non è quello potrei al mondo entrarci anche in questi discorsi qua ma non sarà quello a fare la differenza però chiaramente le cose che sono aggiustabili aggiustarle ok? quindi se sei in sovrappeso perdi peso se porti gli occhiali prova a metterti le lenti a contatto ok? io porto gli occhiali da vista mi hai mai visto in qualche video con occhiali da vista? no perché sono molte molte poche le persone al mondo che stanno meglio con gli occhiali da vista piuttosto che senza quindi se porti gli occhiali da vista fatti delle lenti a contatto oppure quando parli con una ragazza magari prova a toglierti gli occhiali ma tanto non sarà quello che farà la differenza questo è semplicemente questo è per il discorso di capire che essere brutto è semplicemente una scelta ok? perché non stiamo parlando di farsi una plastica al viso un altro dei discorsi è che tantissime poi in realtà ho segnato queste cose però sto poi al massimo controllo per vedere se ho detto tutto quindi andiamo un attimo a braccio però una delle cose che mi ero segnato che devi dire dopo era che tantissimi uomini si vedono brutti quando in realtà semplicemente sono ok esteticamente o magari sono anche buoni esteticamente e semplicemente hanno una bassissima autostima e posso garantire nel 99% dei casi sì anche tu che stai guardando questo video in realtà sei ok esteticamente magari ti puoi migliorare un pochino in realtà tutti quanti si possono migliorare un pochino esteticamente magari cambiando abbigliamento magari come da tutti i suggerimenti molto basici non si tratta di fare una plastica al viso ma tanti che sono ok esteticamente si vedono e si sentono brutti semplicemente per il fatto che hanno una bassa autostima e vanno bisogna lavorare in quel caso sulla parte estetica sì sicuramente lavoraci anche un po' sulla parte estetica ricordandoti che tanto non sarà quello a fare la differenza ma c'è da lavorare sull'autostima non sul farsi una plastica al viso mi ricordo questo in realtà pensavo sarebbe stato un video corto invece vabbè lasciamo stare e mi ricordo un mio amico un barra conoscente di un po' di anni fa che praticamente lui aveva il naso leggermente storto e se lo noti anch'io ho il naso storto però come vedi non fa nessuna differenza poi ci sono tutti quanti i miei risultati pubblicati sul mio sito www.approccialla.it se non te lo dicevo sicuramente non lo notavi neanche che ho il naso storto e tanti invece siccome hanno una bassa autostima percepiscono un difetto fisico che non è un difetto fisico però lo percepiscono come un difetto fisico cioè capisco se hai una cicatrice che ti taglia il volto così super evidente o ti hanno buttato non lo so dell'acido in faccia il volto sfregiato va bene quello potrebbe essere un problema magari lì devi farti una plastica al viso non lo so ma il 99.9% delle persone che guardano questo video non ha questo tipo di problema è semplicemente bassa autostima comunque dicevo questo mio amico che apparentemente aveva un pochino il naso storto che si è fatto se lui sentiva questa cosa come una cosa che lo penalizzava un sacco con le donne e si è fatto l'intervento al naso non so se attenta cosa abbia fatto per raddrizzarlo sistemarlo un po' diceva anche che c'era troppo grosso il naso secondo lui io l'ho visto prima e dopo l'intervento non si nota niente assolutamente nulla i risultati con le donne uguali a prima anzi in realtà anche peggio perché poi lui in realtà non penso che segua neanche questi miei video non agisce non applica a volte ricomincia ad approcciare poi sparisce per un anno senza non perché si è fidanzato ma proprio perché magari molla poi ritorna dopo un anno poi riprende fa un pochino poi molla di nuovo e sempre lì da l'ho conosciuto nel 2017 16 non mi ricordo e ancora è sempre lì che non combina niente tornando ai discorsi di prima riguardo i suggerimenti fisici estetici che stavo dando per ricordare non saranno comunque quelli a fare la differenza però quello che è giustabile assolutamente aggiustarlo ma è un lavoro che devi fare in parallelo mentre effettivamente esci e conosci ragazze come ho detto perdi peso se sei in sovrappeso mettiti delle lenti a contatto se hai gli occhiali prova magari a farti crescere la barba se non hai la barba prova magari a tenerti la barba più in ordine se magari la tieni un po' più disordinata prova magari a tagliarti la barba se invece hai la barba sono tutte piccole cazzatine che come ho detto non si tratta di farsi una plastica al viso che tanto non cambierà nel 99% dei casi i risultati oppure prodotti per la pelle per curarti un po' di più la pelle il problema di tantissimi uomini che pensano è ma se uso prodotti per la pelle sono gay no semplicemente sei intelligente e poi arriverai a 40-50 anni che non hai 8 milioni di rughe ok quindi non sto dicendo che devi farti la maschera al viso i trattamenti che si fanno magari le donne ma curarsi un minimo la pelle con delle creme che cazzo ne so io mi lavo la faccia con il detergente al mattino dovrei lavarmi anche la sera con il detergente però non sempre c'ho voglia ok va bene però curarsi un minimo la pelle ok sono tutti piccoli suggerimenti che migliorano un po' la parte estetica ma ripeto tu puoi aggiustare questo è un discorso consiglio di leggersi un libro che io non leggo libri adesso diciamo questa cosa un libro che si chiama Psicocibernetica scritto da io non l'ho mai letto però conosco come si riprogramma la mente la propria immagine interiore quindi non so di cosa parla il libro è stato scritto da un chirurgo estetico appunto che andando a aggiustare i connotati del viso a persone che effettivamente erano realmente sfregiate quindi magari persone effettivamente avevano grossi difetti fisici ma reali magari grosse cicatrici sul volto il volto sfregiato ma realmente magari dopo incidenti in auto quindi andando ad aggiustare effettivamente i connotati del viso alle persone aveva notato che alcune persone cambiavano la loro vita perché si vedevano effettivamente in maniera diversa in maniera migliore e altre invece continuavano a fare una vita mediocre dove perché continuavano a vedersi brutti continuavano a vedersi sfregiati come prima da quattro una serie di studi disse scoperto che esiste un'immagine interna ora ripeto io non ho mai letto quel libro però so di cosa parla so come si riprogramma l'immagine interiore anche se non ho letto quel libro però appunto consiglio per informarsi più sull'argomento questo libro psicocibernetica non mi ricordo il nome dell'autore un altro dei suggerimenti per aggiustare un po' la parte fisica estetica è per esempio l'abbigliamento quindi prova a cambiare anche il tipo di modo in cui ti vesti io per esempio fino a quando non so il 2015 2016 mi vestivo sempre per esempio ci sono le foto sul sito www.approccialla.it dove c'è la sezione dei miei risultati le puoi vedere foto magari di quando approcciavo nel 2015 2016 dove tipo le scarpe da corsa lo zaino della scuola anche se avevo finito la scuola in maglietta proprio vestito malissimo e lì capisci anche che effettivamente non è quello che fa la differenza ma comunque io per esempio quando avevo iniziato andavo ogni sabato andavo sempre in centro a Milano e giravo i negozi e capivo un attimo quali erano i negozi che tipo di abbigliamento avevano e poi tutte le volte mi prendevo magari qualche capo di abbigliamento nuovo e lì avevo cambiato abbigliamento nel 2018 che ho fatto l'ultimo anno in cui ho lavorato come dipendente che facevo il lavoro che tutti i giorni dovevo essere in giacca e cravatta e da lì ho visto la cosa che mi piaceva non vestirmi tanto in giacca e cravatta ma semplicemente mettermi la camicia infatti ho 800 milioni di camicie sono sempre in camicia perché mi piace mettermi in camicia quindi negli anni ho cambiato l'abbigliamento ma tanto non è quello che fa la differenza quello che fa la differenza poi effettivamente sono le abilità sociali può essere bellissimo quanto vuoi sì avrai giusto magari una reazione positiva in apertura un po' più facilmente però poi dopo 15 secondi la ragazza se andrà via se poi non c'è sostanza dopo quindi se vuoi imparare effettivamente come funzionano le dinamiche fra uomo e donna come aver successo con le donne clicca sul link in descrizione oppure vai sul mio sito www.approccialla.it lì troverai tutte quante le informazioni riguardo ai miei corsi se hai qualsiasi tipo di dubbio o domanda ci sono sempre dei contatti telefonici in descrizione sia il numero verde gratuito sia anche il contatto whatsapp per parlare con qualcuno dei miei collaboratori e fargli tutte le domande che ti servono detto ciò ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.